Per il consigliere regionale Claudio Ruffini è importante approvare in tempi brevi questa riforma organica al fine di migliorare il settore abitativo di edilizia residenziale e sociale. Intanto la Regione aveva promesso una serie di riforme in vari settori e tra le riforme quella relativa all'edilizia residenziale pubblica. Una riforma che non è arrivata, l'impegno da parte della Regione era quello di presentarlo entro a breve tempo tant'è che a agosto quando abbiamo sostituito gli ex commissari con gli amministratori unici presso le ATER si erano dati dei tempi molto stringenti. Ad oggi non conosciamo la proposta della maggioranza ed è qui la minoranza, il gruppo consigliere del Partito Democratico a presentare una riforma complessiva di questo settore. Passando con il riordino delle ATER, anziché avere cinque ATER noi proponiamo un'agenzia regionale sulla casa lasciando sui territori, nei cinque sedi attuali dell'ex ATER le strutture operative dove non ci saranno più i consigli di amministrazione, i revisori non ci saranno i direttori ma ci sarà semplicemente un dirigente mentre presso la Regione ci sarà l'agenzia con il proprio direttore e il proprio consiglio di amministrazione. Poi affrontiamo il capitolo riguardante l'assegnazione degli alloggi diamo la possibilità di gestire tutta questa materia ai comuni o all'Unione dei Comuni ovvero non abbiamo più la commissione provinciale, tra l'altro costosissima ma saranno i comuni a effettuare il bando che devono fare almeno ogni tre anni la possibilità di stabilire appunto un'apposita commissione fatta da funzionari quindi con costi molto ridotti la graduatoria e poi tutta la gestione riguardante l'assegnazione poi verificare se gli assegnatari mantengono i requisiti e quant'altro sono tutti aspetti che la legge ha contemplato innovando tenendo conto anche le normative sopravvenute e istituiamo nell'ambito della gestione degli alloggi anche un fondo sociale per chi non riesce a pagare il CAN un fondo sociale che si alimenta sia con i CAN sia con un contributo annuale da parte della regione Abruzzo il capitolo nuovo, veramente innovativo è l'housing sociale che si sta sperimentando in tante regioni del centro nord ma che in Abruzzo non ha avuto mai nessuna nascita grazie a tutti